oggi voglio spiegarvi che cos'è magic cooker e a cosa serve magic cooker è un coperchio magico in acciaio inox 1810 e ha questi fori chiamati fori venturi che servono proprio a mantenere la bassa temperatura nelle nostre pentole e nelle nostre padelle magic cooker si appoggia sulle nostre pentole sulle nostre padelle senza una chiusura ermetica è formato dal suo disco quindi con i suoi fori è formata dalla vite con il distanziatore oppure la valvola smart dynamic nel modello ultimo la campana di raffreddamento e il pomello rosso e nero proprio per una buona impugnatura magic cooker si appoggia sulle nostre pentole sulle nostre padelle per cucinare di tutto dagli antipasti ai dolci fa tutto cucina in modo salutare tutto a basse temperature quando noi andiamo ad appoggiare il nostro coperchio sulle nostre pentole fa in modo che il calore che esce da la nostra pentola va a finire sotto questi fori chiamati quindi fori venturi va sbatte sotto la campana di raffreddamento raffredda questo vapore dividendolo in sostanze che ritornano indietro e che quindi mantengono la temperatura bassa e in questo vapore acqua che va fuori dalla nostra pentola che è un vapore acqua che a noi non serve questo reciclaggio continuo del nostro vapore nella nostra pentola fa sì che nella nostra pentola ci sia sempre la temperatura costante al di sotto dei 100 gradi e tutto ciò che noi mangiamo al di sotto dei 100 gradi non fa male alla salute perché tutto quello che viene cucinato al di sopra dei 100 gradi sprigiona la croelina che è una sostanza cancerogena che fa male al nostro organismo sia a noi e a quello anche della nostra famiglia dei nostri familiari magic cooker nato proprio per cucinare in modo salutare dove possiamo cucinare la nostra pasta insieme al condimento dove possiamo cucinare i nostri fritti quindi fritti cucinati a bassa temperatura e quindi a 100 gradi a questi cerchi che ci danno la possibilità di coprire tutte le misure delle nostre pentole quindi non servirà un coperchio per ogni pentola ma servirà un coperchio di una misura che coprirà tutte le misure più piccole delle nostre pentole ad esempio acquistando una misura 27 posso andare a coprire tutte le pentole e le padelle o le casseruole che io ho in casa che hanno la misura fino ad arrivare al 26 invece se ho delle pentole o pentole più grande della 26 dovrò acquistare il coperchio quello di misura più grande quindi in casa basteranno due coperchi che mi andranno a coprire tutte le misure di padelle o pentole che noi abbiamo in casa se poi volete acquistare anche le nostre pentole allora anche lì abbiamo delle ottime pentole con una qualità veramente eccelsa e poi volete delle informazioni più dettagliate potete contattarci e noi siamo a vostra disposizione un saluto da me e da magic cooker e noi siamo a vostra disposizione un saluto da me e da magic cooker